amici di atti sport ventiquattro bentornati in nuova puntata di due metri la palla notovista da vicino continua il nostro giro panoramico tra le formazioni di serie 2 andiamo ancora nel girone nord per sondare gli umori delle due contendenti nelle imminenze di quello che lo scontro al vertice si fronteggeranno infatti la neta finboiasco 1951 seconda in classifica e la capolista la corazzata rarinantes florenza e per parlare proprio della compagine toscana è un grande piacere ritrovare sui nostri teleschermi l'attaccante del set allenato da luca minetti cesare mancini ciao cesare bentrovato sono contento di riaverti insieme a noi andrea grazie a te per l'invito cesare io inizio la nostra chiacchierata ritornando all'ultima uscita nel match giocato sabato scorso la rarinantes florenza vince abbastanza agevolmente ci siamo fatta forse per il 2 a 5 del secondo periodo contro la rarinantes sarezzano e continua la sua marcia inarrestabile con quali sensazioni archiviato avete archiviato scusami il successo con i liquidi e allora e sapevamo che comunque già dall'andata l'arenzano è stata punto una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà infatti all'andata è finita 12 a 11 per noi e invece quella di sabato scorso è stata una partita altrettanto difficile e siamo partiti molto bene soprattutto il primo tempo con un parziale di 6 a 0 e poi però nel secondo tempo abbiamo abbassato la concentrazione e questo è proprio quello che che dobbiamo evitare diciamo soprattutto nelle partite che che poi serviranno quindi nelle partite più più importanti assolutamente si avvicinano le partite più importanti vi state infatti assicurati vi siete infatti assicurati il vantaggio del fattore campo nei playoff ma anche il fattore campo se non c'è non ci sono gli ingredienti che con grande puntualità hai citato tu diventa un dato relativo ti chiedo proprio che significato assume per il vostro percorso la certezza matematica del primo posto con quattro giornate di anticipo vi aspettavate di schiantare la concorrenza in questa maniera ti devo dire la verità sinceramente no e noi comunque abbiamo fatto un percorso di crescita notevole devo dire e quello che vogliamo continuare a fare proprio questo un percorso di miglioramento fino alla fine del campionato e soprattutto in vista dei playoff quindi ogni giorno cerchiamo di lavorare di dare il massimo agli allenamenti ed è quello che continueremo a fare appunto in vista dei playoff mi sembra diciamo ampiamente giustificata la tua affermazione per ora avete gettato le basi avete messo le fondamenta dell'edificio però poi per la squadra allestita il percorso che state facendo bisogna portare la costruzione a termine e avrete sicuramente avuto modo di rivalutare il match insieme a mister Luca Minetti sia magari alla ripresa degli allenamenti che in sede di videoanalisi ti chiedo che che riflessioni avete condiviso sì sicuramente abbiamo fatto una abbiamo parlato dopo la partita e sicuramente ci ha fatto i complimenti perché sapevamo che non fosse facile e poi abbiamo parlato delle varie situazioni che si sono create sia in attacco che in difesa e su cosa dobbiamo migliorare infatti stiamo facendo e continueremo a fare allenamenti mirati proprio per per correggere questi errori e per per cercare di evitarli nelle fasi più importanti di di questo campionato certo più si alza il livello e più diventano importanti i dettagli anche se credo sia giusto rimarcare ciò che tu hai detto questa è una squadra che ha compiuto un percorso di crescita esponenziale dall'inizio dell'annata fino ad oggi e te la lancio quasi a mo' di provocazione perché potrebbe apparire come un paradosso ma una corazzata di questo livello una squadra che ha dominato il campionato dall'inizio può ancora limare qualcosina al suo standard di prestazioni c'è ancora qualche dettaglio da perfezionare sì sicuramente qualche miglioramento da fare io penso che ci sia sempre in qualsiasi squadra quindi e noi lavoriamo molto su tutta la difesa poi come dice il nostro allenatore l'attacco viene da sé le soluzioni le si trovano in attacco quello su cui lavoriamo molto la difesa e e quindi penso che ci sia ancora parecchio da migliorare anche se come detto prima dall'inizio del campionato abbiamo fatto grandi grandi margini di miglioramento assolutamente adesso c'è un altro test di quelli con i controfiocchi l'ho detto in sede di introduzione c'è la sfida di confronto diretto della vastallo con la neta fin bojasco 1951 che partita ci possiamo immaginare sì sarà una partita molto difficile e il bojasco ha ottimi giocatori quindi dovremmo essere concentrati dall'inizio fino alla fine cercando di sbagliare il meno possibile e credo sarà un ottimo banco di prova in vista dei playoff e poi comunque sono sicuro che ce la metteremo tutta daremo il cento per cento e per per provare a portare a casa i tre punti e quindi massima concentrazione dall'inizio fino alla fine e poi a fine partita si vedrà chiudo con l'ultima battuta dal punto di vista tattico quali potrebbero essere le chiavi del match allora io penso che in queste partite vince chi sbaglia meno quindi sia in fase offensiva che in quella difensiva dovremmo cercare di limitare per quanto riguarda la nostra fase difensiva le loro conclusioni da fuori e invece nella nostra fase offensiva dovremmo cercare di non forzare i tiri di cercare di imporre il nostro gioco sin da subito e poi come detto prima andare a bojasco consapevoli dei nostri mezzi e provare a portare a casa i tre punti poi a fine partita si 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 trattano le conclusioni va bene siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio Cesare Mancini per essere intervenuto e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Cesare grazie mille ciao Andrea grazie a te